Carissimi amiche e amici, salve! Continuiamo la sop'opera Claudio Serpin, la nuova star televisiva. Ho sentito una nuova intervista, una nuova lunga intervista. Io direi fermatelo, fermatelo. È un fiume in piena e dice di tutto e di più, ma senza che qualcuno lo metta di fronte alla realtà. Ma veramente, e leggo anche i commenti dove molti fanno commenti di apprezzamento, ma si possono dire certe cose senza alcuna garanzia, senza alcuna prova. Basti dire questo, ma al di là dello show mediatico, ma veramente compulsivo, qualcosa che io lo trovo di un'esagerazione senza uguali, ma fra tutto ciò, fra tutto quanto detto, qualche messaggio mostrato anche, ma una foto. Perché non è mai stata mostrata una sola foto? Possibile, proprio Liliana che era amante delle foto, anche lei, no? Perché non c'è una sola foto che la ritrae magari in un gesto, in un atteggiamento affettuoso con Claudio? Questo c'è da domandarsi, no? Ma in questa intervista io mi sono insegnato alcune cose. Vedete, io non lo so, c'ho un senso veramente di fastidio a vedere questo senso unico che va. Cioè lui dice, no, è uscita con i telefonini, poi qualcuno ne ha fatto qualcosa, sono stati riportati a casa, io non so chi, e non so chi, puntando il dito ovviamente contro Sebastiano, che ovviamente subisce come un pugile che incassa, in cassa, perché il rapporto qui è 10 a 1 sicuramente. Poi questa sua fissazione per le date, le date dal 25 ottobre, siamo amanti dal 25 ottobre, ma come si fa a dire, ad esempio, che uno ama una persona da un certo giorno? Io credo che l'amore sia un sentimento che maturi nel tempo, sì ci sono dei momenti particolari, ma il 25 ottobre l'ha ripetuto, ripetuto, ripetuto. Poi queste sue manie per le date, il 16 dicembre dovevamo partire, fare il weekend, ritornare il 19, e lei veniva a casa mia, in occasione del primo anniversario della morte di mia moglie. Questa sua preoccupazione che ha spesso raccontato, già alle 10 e 30 di quella mattina, che esce e va da Maria Monti a raccontare a tutti che lui era l'amante, ma l'ha dovuto raccontare anche alla cugina, alla figlia, la propria figlia che abita sopra da lui, non sapeva niente, nessuno sapeva niente. Ha dovuto, ha dovuto inventarsi di sana pianta questo grande amore, perché altrimenti non avrebbe saputo come giustificare. Vedete, io mi sono fatto l'idea di una persona estremamente furba, scalda, nonostante l'età, veramente nonostante l'età. E lui pensa pure che il fatto dei cellulari non si sa, poi effettivamente non si può dimostrare, perché c'è un'unica cella telefonica che abbraccia sia la casa di Liliana, sia il boschetto, eccetera, e l'intervistatore dice, chi gliel'ha detto? Salvo, salvo, salvo il carabiniero, gliel'ha detto. Ma lei è molto amico di Salvo? Sì, è amico di Salvo, va bene. Quindi, poi Liliana mi ha aspettato 40 anni, mi ha aspettato 40 anni, che bella affermazione, ma forse fuggiva da 40 anni, credo io. Ma il tono, il tono di questa intervista, diciamo, che più che un'intervista è un soliloquio, perché lui è un fiume in piena, e non vuole essere contraddetto, alza la voce quando qualcuno gli dice qualcosa, un atteggiamento nervoso, si vede che è un po' un burbero, molto nervoso, ha una spocchia, una droganza di base, e quindi dice cose che rasentano proprio l'assurdo. Mi ha conquistato, mi ha conquistato dal 25 ottobre, con quel messaggio che mi ha fatto, e sarebbe il messaggio nel quale lei avrebbe ricordato a lui la data, la data di 42 anni prima, 40 anni prima, quando si sono conosciuti, quindi immaginate, conquistato, lui è stato conquistato con un messaggio, cioè adesso è Liliana che ha conquistato lui, ecco, quindi non è che lui ha fatto la corte, che ha conquistato Liliana, no, lui dice Liliana mi ha conquistato, quindi diciamo forse Liliana è riuscita, è riuscita a conquistare il bel Claudio, dopo tanti anni c'è riuscita questa donna, e perché poi dice Liliana mi disse, con te, queste sono parole sue, io me le sono segnate, perché mi sembrano proprio risibili, dice Liliana mi disse, con te coronerò il sogno della mia vita, immaginate, Liliana dice, Claudio, io con te, solo con te, coronerò il sogno della mia vita, poi, sei la persona più importante della mia vita, Claudio, sei la persona più importante della mia vita, immaginate un po', se è possibile una cosa del genere, e poi il giornalista dice, ma, signor Claudio, ma lei ha qualcosa in mano per, per le indagini, ha qualche ipotesi, no, no, solo la mia immaginazione che galoppa, è un'autodenuncia, è un'autodenuncia a questo punto, perché, lui dice, no, no, non posso dire, no, solo la mia immaginazione che galoppa, io me lo sono segnato, perché, veramente è qualcosa di incredibile, poi dice, Liliana voleva la separazione, ma, dico, se Liliana voleva la separazione, ed è una donna, era una donna, cioè, di, di mondo, aveva lavorato tanti anni in regione, quindi la separazione, come la si ha, consultando un legale, facendo dei passi, normali, no, o era una separazione come la rumena, senza avvocato, come la rumena che scappa, cioè, lui dice, finalmente nessuno doveva sapere niente, nemmeno Sebastiano, tanto che fa, quello è come quando uno, prende un cane in casa, no, il cane in casa, uno magari va a fare una gita, passa per un negozio di animali, e vede un cane che piace, e lo porta a casa, non c'è bisogno di, di dirlo a parenti, ad amici, o a qualcuno, no, si porta un cane a casa, all'improvviso, che, e così, quindi nessuno doveva sapere niente, quindi la, questa separazione era, la separazione tipo rumena, rumena, cioè, uno si andava a fare, prima il weekend, non si sa come, così, e poi al ritorno, si separava alla rumena, diciamo, e io dico, ma, guardandolo bene, perché anche la fisiognomica, vedete, la fisiognomica è, una scienza che studia, gli atteggiamenti facciali, le espressioni, no, che denotano un po', diciamo, il nostro carattere, se, se vogliamo dirla anche questa, ma, io penso, cioè, mi interrogo, ma, quest'uomo cosa, poteva offrire di bello, di nuovo, rispetto a Sebastiano, un uomo ossessionato da, da date, da orari, un atteggiamento compulsivo, azogante, che non lascia parlare, uno, una personalità contosta, che lo dice, addirittura, lo dice pure, pure salvo, salvo il suo amico, in un'intervista, dice, sappiamo tutti, come, come Claudio, è, è una persona un poco difficile, eccetera, eccetera, quindi, immaginate, come, come è possibile, immaginare una cosa del genere, cioè, una Liliana, che, addirittura, l'ha conquistato, il 25 di ottobre, è riuscita, è riuscita, nel suo intento, nel suo scopo, di, nel suo scopo, di conquistare il bel Claudio, e, quindi, guardate, ma, la verità è che lui, è un, era ossessionato, secondo me, era ossessionato, e ossessionava, io credo che non, bisogna fermare questa persona, bisogna fermare, questa dichiarazione, è vero che, ha avuto una diffida, già, dall'avvocato di, di Sebastiano, però, continua, con queste cose, a senso unico, che, io credo, non si possono dire, senza dimostrare nulla, e, spero che, questi esami, sui cellulari, possano fare chiarezza, ma, io non, non credo, ma, veramente, allora, questa Liliana, se fosse così, sarebbe, veramente, da perizia psichiatra, sarebbe stata, psichiatrica, ma, la cosa, sconcertante, con la quale, voglio, voglio, riflettere, nella parte finale, di, di questo video, è quello, quando lui racconta, in questa ultima intervista, racconta, qualcosa di, veramente, da prevedire, racconta come, dice, io ricordo, che, un ragazzo, di 15 anni, che faceva, credo, se ho capito bene, pure lui, faceva attività, maratono, queste cose qua, e però giocava, con gli amici, a mettersi, le buste di plastica, in testa, e, eh, a resistere, a sofforare, praticamente, a sofforare, finché, resisteva, però dice, poi alla fine, uno comincia a respirare, a nitride carbonica, e diventa, come se fosse, un, un drogato, e quindi, si resiste, in questo stato, di alterazione, finché, poi, non ne, non ne poteva più, e si sfilava, alla busta, poi, una volta, il sacchetto, non è riuscito, a sfilare in tempo, il sacchetto, dice lui, e il padre, l'ha trovato morto, con questo sacchetto, in testa, ma, beh, allora, giustamente, l'intervistatore, dice, ma, ma lei ha raccontato, questo episodio, anche a Liliana, no, 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 ma, vedete, allora, cioè, come è possibile, nella vita, di questo uomo, lui aveva avuto, diciamo, questa esperienza, che ha raccontato, vedete, queste buste, questi sacchetti, sulla testa, che ritornano, è un personaggio, vedete, ma, dico io, nel momento in cui, si esamineranno, questi telefoni, dico, nel momento in cui, c'è il cam, com, 1, 12, 24, 52, da 10 quadrate, dei 12, poi, perché non, vediamo il contesto, in generale, perché non ci sono le foto, e le foto, a quante foto, possibile che Liliana, che scattava centinaia e centinaia di foto, a settimana, non ne aveva, una, lui stesso, non ne aveva, una, è una sola, possibile, mai, io dico, quest'uomo, non può continuare, non può continuare, in questo modo, perché, vi ripeto, a me non interessa, alla fine, non interessa, Sebastiano, si, avrà quell'atteggiamento, un po', un po' grotteschi, anche lui, dice, parla, parla piano piano, insomma, sembra un bugio, le suonato, ci sono dei sospetti, non è andato, a fare subito la denuncia, l'abbiamo spiegato, pure perché, perché poi, tutto questo suo, questo Claudio, che dalle dieci e mezza, si interessa, insomma, va a destra, a sinistra, su, giù, insomma, a cercare Liliana, e poi pretende che, lo faccia pure Sebastiano, ma, sembra che Sebastiano, fino al pomeriggio, non sape nulla, di nulla, di questo ritardo, il ritardo, il ritardo per Sebastiano, era di qualche ora, e sfidò chiunque, diciamo, in famiglia, dopo ritardo di qualche ora, di un familiare, a dare subito a correre in polizia, quindi, è molto più sospetto, questo Claudio, che si barcamena, in questi, in questi termini, che Sebastiano, che, che aspetta, che forse non riesce nemmeno, a comprendere, la portata, di tutto quello, che gli sta succedendo intorno, a me, onestamente, tutto questo spazio, dato a Claudio, nella sua funzione, di amante, dichiarato si tale, dichiarato si tale, ipse dixit, come si dice, lo dice lui, nessuno sapeva niente, adesso lui, sta allo centro della scena, parla come amante, come marito, come unico amore, e tu, come diceva Lilian, secondo lui, con te coronerò, il sogno della mia vita, sei la persona, più importante, della mia vita, allora, lui, assorge a questo ruolo, l'unico ruolo, l'unico amore, questo Sebastiano, che sta nel lato, che non c'entra niente, possibile mai, che dobbiamo credere a questo, io credo, che dobbiamo fermare, questa persona, dobbiamo fermare, questa persona, almeno finché i contorni, non saranno chiariti, allora, quando gli inquirenti, ci diranno, abbiamo analizzato, i cellulari, il tablet, effettivamente, c'è, è venuta fuori, questa storia d'amore, effettivamente, così, allora, noi possiamo andare avanti, in un certo ragionamento, ma, altrimenti, ognuno può dire, io sono l'amante, ho fatto questo, lei mi ha detto questo, dovevamo andare a fare questo, dovevamo andare a fare quella, cioè, uno lo dice, e viene preso, però, rocolato, cioè, uno dice, qualsiasi stupidata, e viene preso, però, rocolato, soltanto, perché, io faccio vedere qualcosa, cam, tbbt, tb, dodici, uno, cinque, ventiquattro, e dico, no, quello è così, ma non è così nulla, non è così nulla, dobbiamo vedere, e vedere bene, quest'uomo, c'ha, una, una buona lingua, è sveglio, agli occhi, indemoniati, è sveglio, questa persona, è molto furba, molto scartra, nonostante l'età, ok, quindi, ma non è che può dire tutto, e deve essere creduto, aspettiamo gli inquirenti che dicono, e vedremo, vedrete che, buona parte, non sarà così, nel suo lapsus, quando dice, quando, quando ha risposta, lei ha qualcosa in mano, per l'indagine, dice, no, solo la mia, solo la mia immaginazione, che galoppa, solo la mia immaginazione, che galoppa, e secondo me, galoppa, è dietro di lui, a seguire, tutti quanti, a vedere questo galoppo, possibile, secondo me, non è cosetto, non è, moralmente cosetto, poi, può essere suicidio, può essere che, sebbastiano, chissà, tutto può essere, ma quello che questa persona ci dice, sono tutte cose gonfiate, come un pallone gonfiato, secondo me, non è giusto, non è cosetto, grazie, grazie sempre, grazie sempre, che mi seguite, che così appassionatamente, ci scambiamo queste idee, non pretendo, che le condividiate, perché, ovviamente, sono opinioni, basate su, sulle cose, che emergono, su quello che io, posso vedere, e quindi, l'importante è che, mi seguite, e, che ci scambiamo, queste opinioni, reciprocamente, un abbraccio, a tutti quanti voi, ciao, 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 Grazie.